I prodigi del pensiero positivo di Amadeus Waldben, diciassettesima lettura. La posizione più elevata. Le stazioni radiotrasmittenti e i ripetitori televisivi vengono collocati nei luoghi più elevati in modo da crescere al massimo la fascia ricettiva e permettere la ricezione stessa anche nei luoghi di vallata, dove sarebbe impedita ed ostacolata da colline e da montagne. Ma la elevatezza che si richiede dall'uomo per trasmettere e ricevere i pensieri è quella morale. Maggiore è l'evoluzione spirituale dell'emittente e più grande sarà il raggio d'azione dei suoi messaggi. Nell'intimo di ogni uomo, anche il meno evoluto, vi è un punto di sintonia con la stazione trasmittente più elevata spiritualmente perché in ognuno vi è la scintilla divina, la presenza anche se non da tutti vissuta coscientemente. Se fossero tolti i diaframmi che sono i soli impedimenti, vi sarebbe comunicazione perfetta tra tutti gli uomini. Tutti possediamo in potenza le capacità telepatiche di trasmettere e di ricevere. I nostri poteri latenti che si manifestano spontaneamente in certe circostanze lo dimostrano con evidenza. Per acquistarli definitivamente bisogna 1. Conoscere le leggi che li reggono 2. Fare esercizi per svilupparli attraverso la volontà 3. Imparare a pensare rendendosi padroni dei propri pensieri 3. Grazie per la surfacesa